Allora, un gruppo di ragazzi, di giovani che vivono quotidianamente questa città e questa piazza che diciamo è un luogo di socialità per chi vuole passare una serata in tranquillità senza dover cadere per voi. Un gruppo di ragazzi chi siete? Studenti, lavoratori, un gruppo di giovani. Insomma, di chi vive questa piazza quotidianamente per passare diciamo una serata senza cadere nei locali, nel consumismo, fare così un po' di soldi, suonare una chitarra, una canzone. Perché questo è un concerto a pagamento, un sacco di soldi, che vabbè sì, d'accordo, però è un qualcosa che si inserisce diciamo in una... in una sequela di interventi. Ok, sono giornalisti. Sono giornalisti, eh ragazzi. Sono giornalisti. Sono giornalisti. Allora, conoscerà tutti. Un po' di marasmo, ci scusiamo per il disagio, quello per cui abbiamo fatto che un po' di marasmo è in questa piazza è una cosa molto semplice. Volevamo essere qui anche noi, non un po' di marasmo, con griglia di marasmo in mezzo, con i papi ci vogliamo. Il lottino per finire la massa di anni che noi non avevamo fatto fare era molto semplice. I costi in questo concetto erano un po' troppo alti. Per vorrezzare i campi, non un po' di marasmo. Io non sto facendo, perché tutti i campi non hanno fatto sbagliare, sono spessi 1957. Si piura pagare 40, 50, 60 e 70 Abbiamo l'affitto, paghiamo le spese, paghiamo le tasse di limiti di vita E' mica, ci sono state fatte E' un'unica cosa che fa il rischio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.